Come mai sei tornata? Ma così, nostalgia di casa. Comunque devo ancora decidere cosa farò, se tornare là o meno. Ah, l'Argentina, l'Argentina, che tensione, come era quella croce del sud nel Ceratè? Te la ricordi? Come se me la ricordo. Siamo partita per quella canzone. Cioè, non solo per quella, comunque. E tu? Cos'hai fatto in tutti questi anni? Ma niente di particolare. Ah, finalmente ho passato l'esame da progetto.